... Kamasaki inizia, attenzione Willi all'anteriore, applauso! In piedi sulla sella, grande show, grande sensibilità di guida, colpo per dare la gira in modo, gioca! E' un giocagliere, incredibile! Guardate cosa fa, guardate cosa fa! E' un giocagliere, vado a risentire, tre volte in Italia, disminisce un po' di minuti, guardate la posizione della leva e il suo manubrio, chiama il pubblico, passegna l'ingitarlo! Grande, che spettacolo! A livello europeo, sempre nei primi tre, poi ha perso l'europeo per il rinfortunio, incredibile! E' uno dei piloti emergenti della scuoleria Red Bull, Aras! Attenzione, l'ha staccato, guardate, tutto! E' uno dei piloti, guardate cosa fa! Impressione, siente giocatori sulla sella! E' il giocagliere! Senti del titolo more? Vedi al diattore, il numero? Impressionante, senza mani. Sensibilità al massimo. Adesso disegna a fare il tocco per terra. Impressionante, senza mani. Impressionante, senza mani. Impressionante, senza mani. Impressionante, senza mani. Adesso va a prendersi l'applauso alla tribuna. Attenzione, guardate la sensibilità, il controllo. Gioca, fa quello che vuole. In velocità. Impressionante. Giro, giro, tolto. Giro di 360 gradi. Sta andando in ove. Chiara il giro, non lo senti. Guarda la posizione. È seduto sul valutino. L'ha stato mandato con le leve. Impressionante. Ma come fa? Ma lei sfida la letto e la fisica. Della stabilità, della qualità. Salute al final. Salute al final. Oh, oh! Allora. Forza. Porca di sera, ragazzi. Tutto sbognato! Allora. Fa paura questo, ragazzi. Guarda. Oh, 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 oh. Chiedere un applauso! Attenzione! Tribune B, tocca voi! B, gu, gu! B, gu, gu, gu! Con quello svolto che l'amplice è nel tutto a non ruota! B, gu, gu, gu! B, gu, 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 gu! E' lo spazio in cui riesce a fare la manovra! E' contenuto! Sfiora più volte il momento ma è tutto studiato e contenuto! ha mandato una moto, una ferma guarda, guarda, guarda ricordiamo che lo potete rivedere domani pomeriggio noi in box a filmare le autografi è la prima volta che lo vedo fare spaventoso 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 sostaventoso e velocità fa quel che vuole sulla sua Kawasaki Ninja guardate no? ancora oh no su 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 guarda 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 no guarda guarda piedi su Maruco non è mai stanco è incredibile frizione gas massima sensibilità guardalo Paolo guardalo troppo là wow wow vediamo cosa ci combina augura guarda ma sta cercando di per favore guarda come é inchiennata non ce la fai guarda guarda gira su se stesso dolce attuale, incredibile mamma mia su Willy hai capito perché questo riprovare la moto arrivano le scelte attenzione attenzione si deve riprovare hopla